Attenzione! Saluto! Assisti! Sì! Un momento iscritto! No! Oh no! Holy fuck! E' lo stesso? E' lo stesso? E' lo stesso? Hmm Ollaaa! Ma questa è la posta che è stato spesso, se c'è stato un'epoca di un'epoca Ollaaa! Uuuuh! Tanti che vado a fare l'epoca! Soltate il tuo gioco eh? Che è lì? Però tu devi provare almeno a scendermi la base La nuova E' un'epoca No! Si può essere un'opera Oh! E' un'epoca Ma cosa è che lo c'è un'epoca? Foton flash da vicino non lo uso perchè me lo autotelo No! Ah allora! Non lo devo vedere il tuo fatto No! No, 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 no. Ho fatto un'esplosia supermossa e l'opera supermossa ti sei perso il Disney Questa è la Disney Motors e la prova più in cima Ora scollegare la TV Ok, io vi ho fatto un'ottima stessa Quante persone ci sono online? Ah, sono abbastate parecchie ma poi non c'è più 12 12 Damn, il ragazzo che gioca la gitarra è a fai Sei un p***o Perché? Gli hanno scritto Damn, il ragazzo che gioca la gitarra è a fai E lui mi ha insultato Mi sei insultando Non ti sta insultando, è un complimento Sì, è sarcasmo Era sarcastico Mi faccio perdere polla Ma sta vicino Paige è il Dio a Gitarra 2 E' potuto fare tutto pure le bocchini Oh, lui di più Bravo Oh, lui di più Eh, vai alla p*****. Eh, fai la p***** What's the man? See you at once Page B***h